SILVANA DE MARI SILVANA DE MARI SILVANA DE MARI In realtà ho lasciato la chirurgia per una serie di motivi, ho lasciato la medicina vera, quella che si fa negli ospedali, quella che si fa nel pronto soccorso. Era da poco nato mio figlio, finalmente dopo 15 anni di matrimonio, 15 anni che lo aspettavo e volevo più tempo per occuparmi di lui. Ma in realtà era successa un'altra cosa, mia madre era morta, è morta di sclerosi atriale amiotrofica e io mi sono assunta la responsabilità di lasciarla morire, senza portarla in ospedale, senza farla intubare. Lei aveva dichiarato che questa è la sua volontà, ma l'aveva dichiarato prima. Comunque è stata una scelta molto pesante e dopo questa scelta io non avevo più voglia di fare il medico, non avevo più voglia di assumere le responsabilità o forse non ero più in grado di farlo. Quindi mi sono interrotta, mi sono fermata, ho usato il tempo libero per stare con mio figlio perché tutte le mie priorità dopo quella morte sono cambiate. E poi ho cominciato a occuparmi di psicologia, chiunque si occupi di qualcosa che comincia per psi ha dei problemi suoi che sta cercando di mettersi a posto. Poi dopo che si è messi a posto, visto che ha imparato l'arte, già che c'è la struta anche per portarsi a casa una qualcosina. I psicologi dicono quello anche dei chirurghi. E comunque ho cominciato a occuparmi di psicologia anche perché dovevo trovare io un qualcosa che mi aiutasse. E ho cominciato a scrivere e quindi lì è cominciata l'avventura. È cominciata l'avventura che la redazione di Torino Medica ha seguito passo per passo. Forse dal primo libro che era l'ultima stella a destra della luna. Che è un libro molto poetico, molto bello, molto femminile forse come tipo di narrazione. Quanti anni fa sono? Nel 2000. Nel 2000, infatti. Ecco, in dieci anni questa iscritta all'Ordine dei Medici di Torino è diventata uno degli autori di romanzi italiani più tradotti all'estero. Dopo vedremo, c'è veramente, è un piccolo saggio di quello. Sì, è un piccolo saggio, sì, sì, non ho portato tutto. Però è già quello che vedremo lì di un libro tradotto all'estero denota, oltre ad essere molto curioso tra l'altro, denota il successo oramai mondiale che caratterizza la tua narrazione. Ti abbiamo invitato, soprattutto per oggi, per parlare di questo libro, che è l'ultimo, l'ultima profezia del mondo degli uomini. È la conclusione di una specie di saga, o sbaglio? È la conclusione di una saga che comincia con l'ultimo elfo, l'ultimo orco, gli ultimi incantesimi e l'ultima profezia del mondo degli uomini. La letteratura fantasy... Qual è il filo rosso che lega tutti questi... Dio e la morte. Ecco. Come Tolkien, come Narnia, come anche Harry Potter, il fantasy parla di Dio e della morte. Il fantasy è il genere dove noi abbiamo racchiuso l'orrore del genocidio. Gli ultimi cento anni sono stati il secolo del genocidio e noi abbiamo racchiuso l'orrore del genocidio in due generi. Il genere fantasy dove vinciamo noi e il genere oro dove hanno vinto gli altri. Noi siamo immersi da un secolo a questa parte in una cultura di morte. Il genere fantasy nasce dalla fusione di due generi precedenti. Pur vivendo in una civiltà che l'ha negata la morte, addirittura come fatto. Esatto, esatto. Basta vedere il numero di sinonimi che ha la parola morte. Da un punto di vista antropologico, tanti più sinonimi ha una parola, tanto più quella parola è un tabù. Basta che noi leggiamo gli annunci mortuari. È mai morto nessuno. Se n'è andato, è tornato il padre, ci ha lasciato... È morto. Ha cominciato un viaggio straordinario di cui noi siamo terrorizzati essendone immersi. E tutti coloro che distribuiscono la morte a metri cubi, che sia Hitler, Stalin, terrorista islamico, sono coloro che la temono terribilmente e in questa maniera hanno l'illusione di averne il controllo. E perché in genere tutti questi dittatori poi si suicidano alla fine? Perché così hanno il controllo della morte. Perché lo fanno nel momento in cui loro credono di essere preparati ad affrontarlo. Infatti, inoltre, qui è spiegato molto bene il concetto del perdente radicale, che noi troviamo nella strega di Biancaneve. Specchio specchio delle mie brame, chi è la più bella del reame? Sì, è d'accordo, ha un disturbo isterico di personalità. Ma quindi ha uno schema ipercompetitivo sempre inserito. Quando questo succede in un genitore, è terribile perché schiaccia il figlio. Colui che deve sempre essere più del reame, nel momento in cui non riesce più a vincere, tira fuori il suo spaventoso complesso di inferiorità, l'assustione di secondo grado. Quindi distrugge se stesso e distrugge il mondo. È il perdente radicale. Adolf Hitler e terrorista suicida sono tutti perdenti radicali. Avete notato che chiede allo specchio chi è la più bella del reame? Non potrebbe deciderlo da sé. Queste persone hanno un io rattrapito, non si fidano del proprio giudizio, devono sempre chiedere a un lettore esterno, che può essere il denaro, la bilancia, il concorso di Miss Mondo, il voto, il voto della figlia. Perché tu hai preso solo nove, l'hai preso nove e mezzo? Quindi la regina decide di uccidere Biancaneve. Per uccidere Biancaneve fai il supremo sacrificio. La sua vita, di cui non gliene puoi portare di meno, la sua bellezza. Abbiamo lo schema del perdente radicale. Il valore allora, diciamo così, antropologico, usiamo un parolone, il valore antropologico della favola, qual è? Quello di giocare questi ruoli da un punto di vista soltanto di simulazione? No. No. È una possibilità di autoguarigione. È un'autoguarigione sciamanica basata quindi sulla modificazione dei propri neurotrasmettitori. Se il pensiero è frutto della mente, la mente è frutto del pensiero, a seconda di come pensi in maniera diversa, cambio il mio cervello, cambio i neurotrasmettitori, cambio il mio cervello. Quindi, supponendo che mamma mi abbia sgridato e io gli ormoni da stress appalla, il coltisolo appalla e il coltisolo mi abbatte il sistema immunitario. Nel momento in cui leggo la storia, la cui protagonista è un'orfana, che quindi è meno amata di me, io ho la filiazione al gruppo, tiro su serotonina, tiro su endorfina. Ma de Natura ha creato nel nostro cervello il piacere dell'ascoltare storie, storie che non solo non sono mai successe, perché aumentano la nostra capacità di sopravvivenza. Inoltre, nella fiaba noi abbiamo messo un qualcosa di terribile che per secoli è stato negato e affiorato alla luce della scienza, 60 anni fa, la persecuzione del bambino. Il bambino può essere ammazzato, biancaneve, massacrato di lavoro e torturato, cenerentola, cenerentola viene dalla Cina, i piedi fasciati, venduto per cibo da mamma, da per onzolo, venduto a una bestia, da papà, la bella e la bestia. Chi accompagna per vendere al postribolo la bambina in Telandio e in Brasile? Il corpo del bambino è diventato cibo, ansele, gretele, pollicino, in pelle d'asino abbiamo l'incesto. Il dolore del bambino non amato, del bambino battuto, del bambino picchiato, del bambino ignorato, per anni è stato raccontato solamente nella fiaba. Nelle fiabe di Andersen, dopo l'illuminismo, cambia il tipo di dolore. È una fiaba che nasce già scritta, quindi si rivolge a qualcuno che sa leggere. Mentre la grande fiaba classica nasce orale, troppo viene raccontata. C'è un modo per raccontare il non raccontabile. Il non raccontabile. Noi lo nascondiamo nella narrazione fantastica. Ma che esiste, ci permea. Certo che esiste, ci permea, certo che esiste. E con quello ci confrontiamo continuamente e non dobbiamo essere schiacciati. Esatto, però il bambino abusato, che ha un genitore disastroso, cercherà disparatamente di non rompere la relazione già scarsa col genitore disastroso, anche perché tutto quello che ha nella storia non esiste, l'assistenza al bambino abbandonato esiste da poco, quindi non attaccherà mai la madre quando la madre è fuori di testa. Per fortuna c'è la fiaba, così finalmente può mettere mamma sotto i riflettori e contemporaneamente far finta di non conoscerla. Quella lì, la matrigna di Cenerentola, mamma mia, una santa. La madre quando preferisce i fratelli a noi, Cenerentola, la madre quando non ci ama, la madre quando ci schiaccia, la madre quando fuori di testa, la madre quando è disperata. Un bambino frustrato a sangue, un bambino lasciato in camicia da notte tutta una notte fuori nella neve. Sto descrivendo l'infanzia dell'imperatore Federico di Prussia, figuratevi quelli negli orfanatrofi. Qual è lo psicologo che più si è avvicinato nello scoprire queste dinamiche? Bolbi. Bolbi con attaccamento e perdita. Bolbi viene inviato dopo la seconda guerra mondiale a visitare gli orfanatrofi. Dopo la seconda guerra mondiale c'erano in Europa orfanatrofi di tutti i tipi, c'erano orfanatrofi tremendi dove gli scarafaggi erano più grossi dei solci, i solci più grossi dei bambini. Quando è crollato l'impero sovietico gli orfanatrofi rumeni erano una roba… Certo, sono ancora un fatto di cronaca purtroppo. Sì, sì, tra l'altro noi vediamo i deficit emozionali e addirittura i deficit cognitivi dove non si sono formate sinapsi. Orfanatrofi anche più serie e decenti dove i bambini venivano accuditi. Bolbi è il primo che si rende conto del dolore del bambino non amato. Accudito ma non amato. A che ci serve l'amore di papà e mamma? Beh, a comprarci scarpe, latte, pannolini. L'amore di papà e mamma ci serve perché nello sguardo di papà e mamma si forma il nostro io. Nei nostri primi due anni di vita, grazie anche adesso la neurobiologia sta dimostrando tutto con neuroni a specchio, questo è stato intuito ma adesso abbiamo proprio le prove anatomiche, un bambino impara una lingua, come ci si muove in una società, come ci si veste tutto, interiorizza, quindi fa parte del suo interiore, quello che papà e mamma pensano di lui. Quindi se tutte le volte che, tutte le volte, qualche volta, quando papà e mamma mi incontravano per casa, dicevano, ah che bella questa bambina, è proprio un onore essere tuo papà e la tua mamma, per me c'era molto facile avere un io forte e dire io sono, ma se tutte le volte che papà e mamma mi incontravano per casa, dicevano, è schifezza sto scarafaggio, ma noi che mai abbiamo fatto di male, io avrò un io rattrappito, io tenderò a dire io so. Bah, io sono, io sono, no, chissà chi sono. E posso avere una maledetta scorciatoia? Se sono la più bella del reame per 20 minuti ho l'illusione di avere un io forte, ma dopo 20 minuti bisogna confermarmelo di nuovo. Se mi è successo questo, che come ne esco? Diventando un resiliente. Tutti i protagonisti delle fiabe sono resilienti e la resilienza è una termine che viene coniato dall'ingegneria, indica un materiale che è contemporaneamente resistente, elastico, sono gli invincibili. Come si fa a diventare un invincibile? Bisogna innamorarsi della vita e di se stessi. Io non posso essere felice se non amo me stesso, perché sono me stessa tutti i giorni, non a giorni alterni. Quindi per prima cosa bisogna concentrarsi sull'amore di sé, che non è il disturbo narcisistico di personalità, è il contrario. Io mi amo in quanto essere umano, in quanto essere vivente, in quanto appartengo alla creazione. Quindi lo schema è, se piace a mamma piace a te stesso e se piace a te stesso piace alla vita, agli altri. Chi ha l'io rattrappito tende a piacere agli altri nella speranza che gli altri gli rimandino come uno specchio il suo valore. Noi invece dobbiamo piacere a noi stessi e dopo che noi ci siamo innamorati di noi stessi gli altri si innamorano di noi. Noi segnaliamo agli altri chi siamo, quindi dobbiamo innamorarci di noi stessi tenendo sempre l'attenzione su quello che funziona. Mamma non c'ha amato, può darsi, ma siamo vivi. Quindi non ci ha neanche ammazzato, poteva andare peggio. Adesso al di là della valutazione politica che non ci compete in questa sede, ma Berlusconi potrebbe essere un invincibile appartenente alla categoria che hai appena descritto? Berlusconi ha alcune doti positive che nessuno deve negargli, che sono intelligenza e coraggio. Quando è sceso da quella macchina con la faccia fratturata ad assicurare la folla, è stato un leader carismatico. Ha numerosi difetti, lui non è né la Thatcher né Reagan, perché è un venditore, sorride troppo e il suo difetto, che è la sua patologia, è quello che lo distruggerà, lui non ha a una necessità patologica dell'amore e dell'approvazione degli altri. Viene spesso scambiato per uno che è innamorato di se stesso, al contrario, se fosse innamorato di se stesso non dovrebbe svendersi alla ragazzina di turno perché questa gli sorrida. E non dovrebbe circondarsi di persone molto dubbie in cambio del fatto che questi sono yes men. Quello che la sua patologia grave, perché è grave in un leader, perché può distruggerlo, è che lui ha un bisogno patologico, una dipendenza, come quello che gli altri hanno bisogno della cocaina, lui ha bisogno della gente che gli sorrida, quindi gli paga perché sorridano, dicono sì quanto sei bravo. Ed è un bisogno che un uomo politico non deve avere, un uomo politico deve essere indipendente da tutti, alcuni pregi, è molto ricco, quindi è difficile mettere uno con i quattrini di Berlusconi sul proprio libro paga e non dipende dal denaro degli altri, ma dipende troppo dall'approvazione degli altri, è un affamato di affetto. Comunque ne viene fuori un quadro, secondo me originale, perché queste cose qui non le ho mai sentite scrivere sulla parte, cioè in genere se ne parla bene o male in base a... alle proprie convenzioni politiche. Però questa è una cosa diversa, è un tentativo di un'analisi... Io purtroppo lo vedo come paziente e questo è già un errore, non devo vedere una... Psicopatologica o psicologica se vogliamo. Esistono patologie più gravi, esistono patologie molto più gravi e non è assolutamente il tipo del dittatore, lui vuole essere amato, non vuole sbattere pugno sul tavolo, quindi è una persona che non mette a rischio... La democrazia, diciamo... E ogni tanto fanno questi paragoni, lasciamo perdere perché l'ultimo paragone di Eco preferisco non parlarvi. No, no, non lasciamo perdere, non metteremo in polemica. Esatto, esatto. Senti, questa è l'ultima parte di questa lunghissima saga di centinaia e centinaia di pagine, che inizia con l'ultimo elfo, allora poi continua con l'ultimo orco, l'ultima profezia del mondo degli uomini e quello che chiude l'arma. Allora cos'è un orco e cos'è un elfo e cos'è un orco? Allora, l'ultimo elfo, che è un libro carino e simpatico, giuro parola di scout, non vi racconterei mai delle balle, e che è quindi un libro molto usato nelle medie, sia in Italia, in Francia, negli Stati Uniti, in Germania, è un libro che parla di quest'ultimo elfo che è rimasto solo... Ma cos'è un elfo? E' l'ultimo perché gli altri li hanno sterminati. Le quattro razze sono i quattro archetipi, l'elfo è il segno d'aria, è la spiritualità biblico-evangelica. Gli altri tre? Gli uomini sono l'acqua, sono duttili, è il diritto romano. I nani sono la materia, la terra, l'amore per la terra. E gli orchi sono il fuoco, sono la distruzione ma anche la passione. E la civiltà europea è nata da questi quattro componenti, noi periodicamente cerchiamo di negarne qualcuna. La spiritualità biblico-evangelica, la filosofia greca, il diritto romano e la potenza dei antropologiche. Sono delle maschere antropologiche, esatto. Quello che i latini chiamavano persone. Tutti noi abbiamo dentro l'orco e dobbiamo imparare a farci conti. Gli elfi sono... L'elfo è l'ultimo perché gli sono stati massacrati, c'è in questo libro lo schema del genocidio. Il genocidio sempre è un atto dove non c'è un guadagno di un inferiore verso un superiore. Il popolo sterminato è un popolo molto più forte per quanto riguarda la magia, cioè la cultura. Il genocidio non dà nessun vantaggio allo sterminatore, anzi lo sterminatore è il perdente radicale, distrugge se stesso. Con i russi che stanno avanzando, con Churchill che sta andando a riprendersi a Costantinopoli, i turchi distruggono gli armeni che sono il 10% della popolazione ma sono il 50% dei medici, c'è il 50% degli ingegneri, questi hanno la gente che crepa di infezioni agli ospedali militari e ammazzano i medici. È stato calcolato che se non avessero distrutto gli ebrei, i tedeschi, i russi li avrebbero fermati. Non a Stalingrado, nemmeno sul confine russo, ma sul confine tedesco li avrebbero fermati. Di nuovo il 50% dei medici e ingegneri erano ebrei a fronte del fatto che fossero il 10% della popolazione. I tutsi erano quelli che sapevano la legge descrivere, in Cambogia sono stati sterminati in maniera genetica ammazzandone anche i figli, coloro che sapevano leggere, bastava possedere un paio di occhiali. A un certo punto gli orchi attaccano e le armate dei principi dei re vengono travolte, resiste l'armata dei mercenari, comandata dal capitano Raskrae, che non viene sconfitto mai, i mercenari sono gli avanzi di galera, lui riconquista, siamo all'ultimo orco, il regno degli uomini un pezzo dopo l'altro e nell'ultima scena va dal proprio padre a chiedergli io chi sono e il padre gli conferma quello che lui sa già, l'attore no, lo scopo e lì ma sono stati lasciati dei sassolini, lui è figlio dello stupro etnico, lui è figlio degli orchi, lui è figlio delle violenze degli orchi sui confini. Stupro etnico è quello che si chiama pulizia etnica, perché purtroppo c'è una grande confusione sulla stampa, soprattutto italiana credo, per quello che conosco alcune internazionali, tra massacro, genocidio e pulizia etnica. C'è un'enorme confusione, basta che vengono ammazzate, più di sei persone che la gente dice un genocidio, no è un massacro. Il genocidio è basato sullo sterminio intenzionale del bambino ed è fondamentale, dove lo sterminio intenzionale del bambino deve essere dato l'ordine scritto, gli sterminali tutti, fatto a freddo, lo stupro, lo stupro etnico e il genocidio non sono il libro di fisica, però sono uno senza l'altro, lo stupro etnico che è uno stupro di gruppo serve a formare la filiazione al gruppo tra la squadra genocidiaria, perché il genocidio è comunque un lavoro schifoso, dopo un po' ti fanno male i deltoidi e i pettorali, noi abbiamo come paradigma del genocidio il massimo risultato con il minimo sforzo, il massacro di Nanchino, i giapponesi entrano in Nanchino, in due settimane fanno 350 mila morti all'arma bianca, ma non è una battuta, siamo il 12 dicembre del 1937, quindi la seconda guerra mondiale, un po' prima, la seconda guerra mondiale non è ancora, la guerra cino-giapponese, esatto, quindi siamo due anni prima che i tedeschi entrino in Polonia, fa 350 mila, l'ultimo imperatore, la vicenda raccontata da fin, l'ultimo imperatore. Tu pensa solamente, ma non è una battuta, voglio spiegare che sono psicotici e la psicologia è contagiosa e questo viene poi da noi stato trasformato in tutti i film sugli zombie, la fatica su deltoidi pettorali e dorsali, cioè 350 mila persone all'arma bianca, io ho lo sguardo di quello che sto uccidendo su di me, ho il sangue che mi arriva addosso, questi non riuscivano a stare in piedi perché il sangue arrivava al ginocchio e dopo un po' non reggo più, quando si fa un lavoro schifoso a un certo punto si regge sulla filiazione al gruppo, per non lasciare il gruppo. Inoltre lo stupro è stato molto poco studiato, lo stupro etrico ha quattro livelli, lo stupro uno a uno, tipo guerra di Troia, le Troiane, oratto delle Sabine, chi ha più donne ha più discendenza, noi studiamo la storia dell'impero romano, non la storia dell'impero sabino e ci sarà stato un suo motivo, quindi il rapporto è un uomo a una donna, sono all'interno della mia tenda, se non mi è andato alla più scolfana delle reame, magari mi diverto anche, al limite le chiederò di levarmi i calzini, ne ho comunque un vantaggio, la donna e la sua discendenza sono una mia responsabilità, i figli potranno essere i miei figli veri o i miei servi, ma li mantengo, lo stupro molti uno, qui già siamo nei guai, con la donna che sopravvive, allora per poter stuprare qualcuno io devo avere un'erezione, cioè un uomo evidentemente, ma per poter avere l'erezione devo avere una vasodilatazione, motivo per cui i vasodilatatori, il più famoso il Viagra, hanno un effetto sull'erezione, primo per poter avere un'erezione devo avere una cascata che mi comincia con il desiderio, dove non ho il desiderio siamo già nei guai, secondo è sufficiente che io stia scaricando dei vasocostrittori, la paura, l'ansia, sono tutti basati su vasocostrittori che mi salta l'erezione, è un meccanismo di difesa, se io sono l'uomo preistorico, lì c'ho la fanciulla e lì c'ho la tigre dei denti a sciavola o l'altro uomo con la clava, meglio che non mi distragga, un uomo può avere l'erezione solo se non ha paura, attenzione, anche l'ansia e paura mediata dagli stessi neurotrasmettitori, anche la compassione sono in ansia per te, allora ho le bravi calate, devo arrivare sulla ragazza bosnia che sono il ventesimo, lei è sfigurata dal dolore, lì c'ho i bosniaci che mi guardano così, lì c'ho i miei alle spalle, se perdo l'erezione non so cosa succede, non mi sto divertendo così tanto, quando oltre un certo livello se uno non è psicotico non ce la fa, a mannanchino 50.000 donne sono state stuprate a morte, cioè la morte avviene per shock da gran negativi per sfondamento dei fornici, quindi si tratta di tenere l'erezione mentre sono su una donna sfigurata malamente dal dolore per cui si sta disidratando, anche un aspetto vicheggiante, un alito terribile, è ricoperta di sudore genido a fronte di una temperatura vaginale interna di 40 gradi, se non sono fuori di testa non ce la faccio, il genocidio è basato sul fatto che le psicosi sono contagiose, anche altro meccanismo di difesa, se tutti sono fuori di testa dico scusate perché non ce ne andiamo al cinema, non capo a lungo, ed è la mezzo con cui la squadra genocidiaria controlla che siamo tutti fuori di testa, non è che tra dieci anni una branca mi viene per il collo di cinema, voi che avete fatto? Quindi sono i due schemi fondamentali, genialmente intuito in tutti i film sugli zombie. Ho capito, tutte queste maschere danno luogo a dei meccanismi narrativi che poi vengono studiati dalla mitologia, noi siamo cresciuti sulla mitologia greca, ecco la mitologia che riguarda invece le vicende degli orchi, degli elfi eccetera eccetera, dov'è, in quale cultura è? Rinasce con Tolkien, è nostra, questa roba è il nostro poema epico e sta nascendo da sola negli ultimi cento anni tra film e libri e certo ricupera qualcosa dalla mitologia greca eccetera, della nostra epoca, è abbrancata su cose precedenti ovviamente ma anche delle linee autonome e tu hai usato una parola perfetta, maschera, al di sotto della maschera c'è un'umanità comune, il capitano dei mercenari una volta diventato re finisce disperso in un'inondazione senza insegne, viene catturato dagli orchi e non riconosciuto viene venduto come schiavo e lui dovrà diventarne il sacerdote attraverso le narrazioni che tra gli orchi sono vietati di costruirne l'umanità e poi diventarne l'imperatore perché anche loro sono il suo popolo, non solo lui dovrà imparare ad amarli, lui dovrà imparare ad esserne fieri e nella prigionia del capitano Ranska e nel mondo degli orchi c'è un mio omaggio a un grandissimo medico che è il dottor Viktor Frankl, il dottor Viktor Frankl era un neurologo che si era opposto alla suppressione dei malati mentali non appena l'Austria viene ammessa alla Germania, lui ebreo ha il visto per gli Stati Uniti in tasca ma non se ne va, ci rinuncia, lo regala per non abbandonare i genitori, finisce in campo di concentramento dove incredibilmente sopravvive un campo di concentramento dopo l'altro perché lui tiene sempre l'attenzione bloccata sulla bellezza, resta 20 minuti in un campo di sterminio a guardare l'incredibile bellezza di una testa di aringa che è finita nella sua sbobba perché è simmetrica, perché è bella, perché ci sono voluti milioni di anni di evoluzione perché si formasse, perché quella aringa è stata nel mare freddo, pulito, gelido, lui guarda le stelle, quando le stelle non ci sono sa che le stelle ci sono dall'altra parte delle nuvole, lui per tutta la sua prigionia tiene sempre l'attenzione ossessivamente concentrata sull'immagine di se stesso che torna a casa, la moglie non era ebrea quindi era al sicuro, lui sarebbe tornato a casa, sarebbe sceso dal tram, avrebbe attraversato la strada, avrebbe fatto le scale, suonato il campanello, la moglie gli aveva aperto e lui avrebbe detto ecco mi sono tornato, lui è tornato a casa, è sceso dal tram, attraversato e è salito, una settimana dopo che lui se n'era andato, la moglie era andata alla destapo e aveva chiesto di essere deportata anche lei, ma lei non ce l'aveva fatta e anche allora Viktor Frankl tiene l'attenzione concentrata sulla bellezza, la bellezza di aver avuto di fianco a essere una persona così straordinaria, la bellezza di essere uomo, la bellezza di essere vivo e crea la logopedia, la capacità che noi abbiamo di curarci col pensiero, con la parola, non è vero che siamo turaccio all'invalire delle nostre emozioni, io mi assumo la responsabilità, da fermo, qualsiasi cosa mi stia succedendo, di essere felice e in questa maniera io do la mia forza al mondo. Stupendo, grazie. Senti, adesso ci fai, ci illustri per favore qualche traduzione di quelle che stanno nelle librerie all'estero. Allora, illustraci un po', dietro c'è una rassegna della tua produzione letteraria, cominciamo a vedere di qua. Queste sono alcune delle traduzioni estere dell'ultimo elfo, io sono l'autore con l'ultimo elfo più tradotto all'estero dopo Camilleri. Questa è quella più importante perché è arrivata per prima. In qualsiasi successo c'è una componente di fortuna, quindi un qualsiasi successo è una componente di 50% disciplina e poi il resto è equamente diviso, cioè nel senso che varia da persona a persona tra fortuna e talento. Quindi alla fiera del libro di Bologna è passato Jonathan Burna, che conosce l'italiano e che era il direttore della Miramax Books, che ha comprato il libro perché se ne è innamorato e quindi il libro è stato venduto negli Stati Uniti mentre stava uscendo in italiano. Miramax perché non lo soppesse, è Disney. È Disney, ed era Walt Disney. E questo bollino qui, di cui sono molto fiera, è il simbolo dell'American Library Association, che sono i bibliotecari e quindi è il premio più importante statunitense. Per il libro, per ragazzi del 2006, miglior libro tradotto, è come l'Oscar del miglior libro straniero. Tra le traduzioni più curiosi ci sono le due traduzioni in cinese, che sono cinese-cina popolare, che si legge per così ed è scritto in orizzontale, quindi la copertina è la prima pagina, come da noi. Quindi si legge da sinistra a destra. Esatto. E il cinese mandarino, che è scritto verticale, dove invece la prima pagina è l'ultima. Come nel giapponese, che mi sono dimenticata a casa, mentre il thailandese, che nasce dall'induista, è di nuovo scritto alla diritta. La diritta, secondo noi. Sì, secondo noi. Tra le straniere, quelli che hanno modificato la copertina, ci sono questi che hanno recuperato il bambino sul drago, mi piacciono molto i lettoni, che mettendo l'immagine del piccolo profugo, rilanciano l'idea, come diceva Tolkien, noi parliamo di fulmine, non di lampadine, il fantasy è un linguaggio universale, senza tempo, senza epoca, senza luogo. Quindi gli elfi possono essere gli ebrei, possono essere gli armeni, possono essere i tuzzi, possono essere i cambogiani. Qui ci sono alcune traduzioni ungheresi, che hanno queste copertine molto fantasy, però anche molto forti. E poi gli audiolibri, per il momento l'inglese e il tedesco, invece il 9 marzo uscirà l'audiolibro in italiano letto da Mietta. Però, anche questo è un grande successo, c'è anche il russo, c'è anche il russo, poi a casa infatti ho il russo, il giapponese, il polacco eccolo qui, questo è l'inglese, dove invece hanno tenuto la copertina originale, poi c'è l'olandese, il finlandese. Ecco, quando questo libro, quando il tuo libro viene tradotto, cosa succede da un punto perché ce lo chiediamo molti. Io vendo i diritti alla casa editrice. Sì, questo sì. Dopodiché è chiusa. La casa editrice vende i diritti alla casa editrice straniera, che prende lei il suo traduttore e io non ne so nulla. Dopo un po' mi mandano il libro a casa. In alcuni casi però il traduttore mi ha contattato, cosa che mi piace da pazzi, chiedendo come lo traduco sta roba qua. Questa roba qui che cosa vuol dire? No, parlavate in inglese ovviamente. No, loro mi scrivevano in italiano. Ah, in italiano. Ah, certo, sì, sì, no, ovviamente. E io rispondevo in italiano. Sì, sì. Magari, siccome sono tutti non di lingua madre italiana, magari non era sempre un italiano eccelso, mentre scrivono bene nella loro lingua. E quando un libro viene tradotto all'estero, ha due anime, l'autore e il traduttore. E qui vorrei parlarvi, se ho ancora un minuto, dell'edizione russa, perché Ludmilla si è innamorata del mio libro. E quindi ha fatto una cosa molto intelligente che fanno molti traduttori. Ha tradotto il primo capitolo e l'ha mandato lei a tutte le case editrici russe. E quindi è lei che mi ha trovato l'editore. La signora che era in parola con lei, ma non è stato fatto ancora un contratto, se ne va, viene un'altra signora che fa tradurre l'ultimo elfo, un'altra traduttrice. Lei non si è persa d'animo. Ha fatto lei la traduzione, poi è andata lì e ha detto, scusate, posso vedere la traduzione dell'altra traduttrice? Qui è sbagliato, qui c'è un gioco di parole che si è perso, qui è appiattito. E gli altri hanno detto, lei ha ragione, la sua traduzione è molto più bella, ma abbiamo già pagato l'altra traduttrice. E lei ha detto, non importa, ve la do gratis, ma la mia è migliore. Con l'altra il libro perde una parte della sua anima. Quindi ha lavorato gratis per tradurre questo libro. In compenso, la Russia ha già preso Orco Incantesimi e Ultima Profezia, lei sarà la traduttrice degli altri. Perché ha la passione di questo libro e io ne sono commossa. Forse è uno dei pochi esempi in cui la passione, l'innamoramento, conta più del rigore. Perché dal punto di vista di linguaggio il rigore è fondamentale nel capire le sfumature. È la lucidità, anche nel capire esattamente che cosa volesse dire. Sì, ma il traduttore perde. L'autore. Non può non perdere, perché le lingue sono diverse. Certo, è ovvio. Si pensa anche a diversa. Si pensa in maniera diversa. Quindi il traduttore, per esempio, Harry Potter ha avuto scarsa successo in Russia perché la traduzione è adulta. Perché c'è un modo diverso di pensare tra il russo e l'inglese. Sì, o forse l'avranno fatta troppo in fretta. Per inciso, l'ipotere è stato tradotto molto bene in italiano, però già in italiano si perdono, chi l'ha letto in inglese, i linguaggi. Per cui il preside e Voldemort parlano un inglese altissimo, è come uno che in italiano dicesse codesto. Harry parla abbastanza bene, Ron parla peggio di lui e Hermione parla meglio. C'è il terzo punto, loro hanno questa bevanda straordinaria che è la burro birra, butter birra, tradotto con burro birra. Non è che il burro si mette... Il burro era così prezioso nel Medioevo che burro vuol dire oro. Butterfly è mosca d'oro, non mosca di burro. Buttercup, il granuncolo è coppa d'oro, non coppa di burro. Quindi andava tradotta birra d'oro, birra dorata. E questo è l'innamoramento, in questo senso qui, cioè il rigore aiuta a fare questo tipo di ragionamento. In pratica bisogna conoscere la cultura del paese dove quella lingua si parla. quando l'inglese è una lingua viene parlata di tutto il mondo, lo scenario si complica molto. È vero. Secondo te qual è la traduzione? In quale lingua si è stata tradotta meglio? Non sono in grado di capirlo. Mi piace molto la traduzione francese, sarà un caso che conosco il traduttore francese, che è un tizio bellissimo, tra l'altro un pezzo di ragazzo, questo non c'entra, che fa il cantante e lo scrittore e il musicista, mi piace anche la sua musica, ma soprattutto il francese lo capisco. Mi paiono buone quelle, l'inglese e lo spagnolo, delle altre non ho nessuna idea. Mio figlio, che per conto suo si è studiato il tedesco, mi ha rivelato che i tedeschi nella quarta di copertina rivelano puntualmente il colpo di scena finale. Peraltro sono i miei migliori, è un posto dove ho avuto un successo strepitoso, quindi va benissimo se loro pensano che fare così, perché poi anche cambiare la copertina, cambiare il formato, rompere il libro in due, sono tutte scelte insindacabili dell'editore. E questo si nota che diventa i diritti, questo punto di vista di diritto internazionale acquisito. Peraltro è una scelta insindacabile dell'editore, quello di scegliere la copertina, qui l'ultimo elfo ha i disegni di De Conno che a me piacciono molto, l'ultima profezia ha questa copertina qua che è stata scelta dall'editore che mi piace da pazzi, di un editore piemontese e il Cavaliere, la strega, la morte e il diavolo, sono nove racconti e un saggio sulla morte. Il saggio sulla morte, l'indauza, attacca anche delle mie esperienze all'ospedale Molinetti, all'ospedale di San Luigi, all'ospedale di Moncaglieri e a un certo punto mi telefono dicendo senta il direttore avrebbe scelto per lei questa copertina qua, veda se le va bene. Io sono sempre andata matta per Brugger il Vecchio e loro hanno scelto i proverbi fiamminghi di Brugger il Vecchio che è un quadro di una bellezza incredibile, ognuno dei quadretti rappresenta un proverbio oppure un modo di dire, la signora sta mettendo un mantello azzurro sulle spalle del marito che non ha un'aria contenta, in italiano si dice mettere le corna, questo signore qua sta buttando i fiori ai porci, in italiano si dice dare le pelle ai porci, quindi questo è anche un libro che ama molto, proprio con questi nove racconti e anche qui il tema è Dio e la morte. E da come è nata questa passione, l'ultima domanda poi, come nasce questa passione proprio per questo genere? Perché il genere fantasy è un genere straordinario che fonde due generi precedenti, il poema epico e la fiaba. Il poema epico contiene valori maschili, il coraggio, la realtà, la cavalleria, con questo non voglio dire che noi fiamminucce siamo tutte delle vigliacchette, ma il coraggio è una virtù virile, ci va il testosterone, un uomo affascina una donna mostrandole il suo coraggio. Mentre la fiaba contiene valori femminili, contiene la tenerezza verso il bambino, contiene il desiderio del bambino di essere amato, l'amore di un uomo per una donna. Nel fantasy noi abbiamo messo l'orrore dei totalitarismi, delle teocrazie con i quali continuiamo a confrontarci negli ultimi cento anni. Il comunismo sovietico, ma soprattutto il nazismo tedesco, non sono mai stati movimenti politici, erano movimenti religiosi, messianici e salvifici, che hanno modificato l'etica, il calendario, particolarmente sconvolgente l'esempio del nazismo, perché il nazismo è durato poco, poco più di un decennio. Chiunque abbia dissezionato vivi i bambini ebrei aveva nella propria memoria personale di un'epoca in cui quella roba lì non si poteva fare. Quindi è l'esempio assoluto, questo lo fai con una religione, non con un movimento politico. Nel fantasy noi non abbiamo messo la speranza che ce la spanghiamo, ma la certezza assoluta. Nascosta nella profezia c'è la provvidenza che noi abbiamo perso sul piazzale di Auschwitz, raccolta nella magia c'è il miracolo. Soprattutto nel fantasy c'è quello di cui noi ci tendiamo sempre più conto, che dal punto di vista della psicologia si chiama costruttivismo, io costruisco la realtà. la logopedia di Viktor Frankl, la stessa fisica quantistica, noi siamo i costruttori della realtà. Se Dio esiste e ha creato l'uomo e la donna a sua immagine e somiglianza, se noi siamo creati a immagine e somiglianza è Dio, noi siamo dei creatori, noi siamo molto più potenti di quanto pensiamo. Nel momento in cui noi ci assumiamo la responsabilità di noi stessi e del mondo, io sono la società, non è colpa della società, la società sono io. Modificando me stessa modifico la società, modifico il mondo, mi assumo la responsabilità. noi siamo molto più potenti di quanto pensiamo. La parola e il pensiero sono un potere immenso, è quello che è rappresentato dagli incantesimi. Grazie. Grazie. Grazie.